Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, siamo una Juve a metà, attenzione, assolutamente divisi a metà, giornalisti di qua e opinionisti di là, primo tempo di qua e secondo tempo di là, giocatori di qua, allenatori di là, siamo divisi assolutamente a metà, tifosi di qua e tifosi di là. Iscrivetevi al canale, un bel like al video, i vostri commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque. Voi siate, quello che conta poi alla fine è il campo, il campo parla chiaro, il campo dice la verità a lunga gittata, poi nelle partite singole magari, può anche non dirla, ma nel torneo lungo il campo dice sempre la verità. La verità è che questa Juve deve stare così distante dal primo posto in classifica? Secondo me no. La verità dice che questa Juve va nel terzo posto in classifica? Secondo me ni. La verità dice che il campo è ambivalente perché lo vogliamo noi? Secondo me no. Secondo me no. Come si spiega il primo tempo meraviglioso della Juventus in campo con la partita dominata, con la Fiorentina schiacciata? Perché poi i dati non dicono in questo caso i numeri, la verità, vera, perché nel computo delle conclusioni delle occasioni gol non vengono contati tre gol annullati alla Juve. E voi direte, vabbè, sarebbe fuori gioco. Sì, certo, è fuori gioco e li hanno annullati. Però tu la palla a gol l'hai creata e anche bella con delle belle azioni, dei bei gol. Tre, tre. Quindi primo tempo, quei tre, più il gol quattro, più altre due possibilità, sei, con la Fiorentina che non ha mai trattato in porta. Ora, come può questa squadra, perché qui abbiamo veramente un grosso problema, oltre a tutti quelli che ci stiamo trascinando in questa annata, come può questa squadra dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, dove lì ha invertito i tempi, il primo tempo brutto e il secondo, bellissimo, dove però ha meritato di portarsi a casa 2-0 con la Lazio, con i gol di Vlaovic e di Chiesa. Allora, come può questa squadra proseguire da quel secondo tempo di Coppa Italia, iniziare il primo tempo con la Fiorentina, dominandola, con la Fiorentina che non è che non abbia fatto un tiro in porta, proprio non porvenuta, non arrivata, non si è vista, dominata dalla Juve, tant'è che finisce il primo tempo e tutti noi ci domandiamo, perché noi lo facciamo oramai in questa annata disgraziata, ma non è che finire solo 1-0 un tempo così poi ce lo andiamo a pagare nella ripresa? Tac, eccola lì, ora, nella ripresa la Juve piano piano, piano piano, sempre di più si abbassa fino alla sua area di rigore e sbaglia un paio di contropiede, dove Dujan purtroppo fa la scelta sbagliata, ha poi quell'occasione là con Ildiz, ma per il resto lascia campo e partita la Fiorentina. Ora, è una scelta? E qua, anche qua, nei commenti ci si è divisi a metà. Locatelli di... Vabbè, l'allenatore non fa testo perché cos'è che ti dica l'allenatore? Sì, buongiorno, gli ho detto in intervallo, ragazzi, tutti indietro, mettiamoci davanti alla porta. Non te lo può dire, no? Eh, perfetto. Anche se fosse, non te lo può dire, ma poi non è. Nessun allenatore, neanche allegri difensivista, nell'intervallo può dire, oh, siamo in vantaggio 1-0, ciao, mettiamo il pulmone davanti alla porta e difendiamo tutta la partita che stiamo giocando in casa, li stiamo dominando e questi non beccano biglia. Dai, eh. In altre partite sì, ma in questo contesto no. No, nella partita dell'andata sì, che tu sei in vantaggio 1-0 in trasferta da loro e lì è una scelta strategica quella di dire difendiamo ad oltranza e puntiamo sul contropiede, anche perché era una situazione diversa dalla squadra di questo momento. Lì quella squadra poteva fare, attenzione, poteva fare, anche se non ci piace, ma poteva fare quel tipo di scelta. Perché in quel momento del campionato la squadra si era costruita e si stava costruendo sulla grande forza difensiva, quella che ci ha portato ai 17 risultati utili costitutili in campionato, punto a punto a giocarci lo scudetto. E quindi poteva fare quel tipo di scelta lì. La squadra di oggi non la può fare quel tipo di scelta qui, perché è evidente che non siamo, che che ne dica gatti nel post partita, che così siamo tosti, duri, quando poi difendiamo così non ci può segnare nessuno. Alla fine abbiamo avuto una grande botta di fortuna. Bravura di Scesni in quella super parata con Gonzales, ma poi una grandissima botta di fortuna quando loro stanno per pareggiare Enzo la si mette davanti, anzi si mette tra il tiro di Beltran, il suo compagno e la porta. Quindi alla fine dai 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 dai, se tu sei basso e gli altri continuano ad attaccare, le occasioni da gol, prima poi gli altri le vanno a creare anche in una giornata in cui non erano la squadra che le poteva creare, visto l'andazzo del primo tempo. Quindi non è una scelta che tu puoi fare in questo momento, perché la vai a pagare? Non l'abbiamo pagata solo perché siamo stati anche fortunati nel secondo tempo, oltre che tosti, cattivi, come dice Gatti. Molto fortunati. Quindi non è una scelta. E allora come mai? Come si spiega questo doppio tempo, questa divisione, questa Juve a metà? Ce lo spiega Locatelli. E Locatelli dice che non è una scelta. Dice volevamo fare nel secondo tempo la stessa partita che abbiamo fatto nel primo, però un po' gli avversari che sono cresciuti, un po' demerito mostro che non ci siamo riusciti e ci siamo abbassati. Va bene. Non va bene, ma va bene. Io l'accetto, credo alle parole di Locatelli, così come seguo i discorsi di tutti i nostri tesserati alla fine della partita. Però di fatto, la realtà ci dice che questa squadra qua, alla prima difficoltà, e anche Juve e Fiorentina ce lo dimostra, ha la prima difficoltà, si squaglia e cambia tutta la partita. Tant'è che ancora una volta mi tocca sentire finito il match, anche da parte di Locatelli, che abbiamo fatto delle brutte partite, bisogna essere realisti, ma che il gruppo è unito, che siamo forti, che la grande delusione ci ha portato ai risultati, dopo che abbiamo perso quella partita là, il 4 febbraio, lo scontro diretto. E allora arriviamo sempre allo stesso punto. Questa squadra non ha il carattere, la personalità, l'esperienza, chiamatela come volete, per affrontare i momenti difficili, senza subire completamente l'inversione della gara. Partita dominata a primo tempo, invece che 2-0, minimo, è perché la fine è anche 3, finisce 1-0, ha la prima difficoltà al secondo tempo. Ciao, paura, dietro, 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 voi direte, aggiungiamoci anche le scelte dell'allenatore, che ha fatto difendere a un certo punto, si è visto a 5, Certo, certo che sì, però, però nei cambi, non è che ha messo dentro due difensori centrali, le ha messe sugli esterni, ha messo dentro Iling Junio e Ildiz, a sessantesimo quel che l'era, per cercare di cambiare l'inerza della partita, tra l'altro Iling un po' meno, Ildiz un po' di più, erano entrati anche bene i due ragazzi, però torniamo al discorso di inizio contenuto, è una Juve a metà, non c'è niente da fare, assolutamente, anche nelle dichiarazioni, perché poi Gatti lo catteri da una parte, Cesni invece dall'altra ti dice che l'obiettivo non può essere la Champions, che chi viene a giocare nella Juve deve giocare per lo scudetto, altrimenti si va a giocare a calcetto, questa secondo me è la strada che dobbiamo decidere se intraprendere, attenzione, perché aggiornamenti sulla situazione della panchina di oggi ci dicono che Allegri è molto in bilico, ma non è certa la sua sostituzione, e in contemporanea si continua ad aspettare perché fino a che non è raggiunto l'obiettivo finale, non si sa il budget a disposizione e in base al budget a disposizione giuntoli potrà capire e decidere se costruire una squadra competitiva nell'immediato, oppure se iniziare un percorso lungo e un programma triennale che fa tutta la differenza del mondo. Sui tifosi a metà già abbiamo argomentato, ci sono quelli che escono dallo stadio e ti dicono che li abbiamo dominati, ma cosa stanno dicendo, potevamo vincere 3-0, alla fine hanno avuto una palla a gol, e ci sono quelli super insoddisfatti che ti dicono che un secondo tempo così non si può vedere, e che quindi bisogna cambiare tutto. Ma soprattutto ci sono i giornalisti opinionisti spaccati a metà, e quelli che giustificano Allegri con la rosa della squadra che non è stata all'altezza, che magari a gennaio non è stata rinforzata in un momento in cui dovevi dare un segnale, e quelli che dicono che la natura non sei mai aggiornato, che siamo ai soliti discorsi, che la squadra gioca male, che così non si va da nessuna parte. È tutto lecito, tutte le posizioni sono condivisibili oppure opinabili, ma ci deve essere una cosa in comune a tutti noi, il rispetto, l'educazione, e il non andare soprattutto in televisioni pubbliche ad insultare, ad offendere il lavoro degli altri, soprattutto quando quel lavoro non lo si conosce minimamente. Ma succede. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.